Una scelta coraggiosa e che potrebbe essere applicata nuovamente. Così Lucia Tanti ha definito l'assegnazione del Palasport Mario D'Agata alla Scuola Basket Arezzo da parte del Comune. La società retina forte anche della partnership con ESTA è risultata come assegnataria per i prossimi 10 anni dell'impianto a retino. Una scelta coraggiosa, ha spiegato l'assessore allo sport, frutto della collaborazione tra pubblico e privato e che potrebbe essere replicata anche per altri impianti sportivi. Il pensiero va subito allo stadio comunale, all'Unione Sportiva Arezzo, che da alcune settimane ha avanzato al Comune la richiesta di stipulare non una convenzione, bensì una concessione pluriannale sulla quale il Comune e la società Maranto stanno lavorando. È ovvio che poi le formule si applicano rispetto ai contesti, quindi non si ripetono i contesti ma si possono ripetere le formule. Lo abbiamo detto anche per lo stadio. Se ci saranno le condizioni per passare da una convenzione un po' traballante che non accontenta nessuno, ad una concessione piena che possa accontentare tutti, anche lì non ci mancherà il coraggio. Ovviamente vediamo se ci saranno le condizioni.